buongiorno buongiorno in questa giornata di fine gennaio voglio fare questa lettura che nasce in realtà da uno spunto a me molto gratuito e sarebbe il seguente antonio lillo editore di pietri vive una casa editrice che nasce si vive e si muove da loco rotondo in puglia luogo tra l'altro bellissimo insomma antonio lillo ha ricevuto tempo fa delle due poesie da carlo bordini che erano era in progetto di inserire in una antologia le cose poi sono andate diversamente ma lui ha mantenuto questi due scritti e è stato così ha avuto questo pensiero di chiamarmi e di propormi di leggere questi due testi per radio pomona mi ha girato esattamente i fogli che gli ha girato carlo quindi ed è questo sono questi ed è quelli che io vi andrò a leggere in questa in questa mattinata giornata dunque carlo scriveva la prima di queste due poesie mi è stata chiesta dalla rivista la alluvina della facoltà di lettere dell'università di guadalajara a messico per un numero delle sulle migrazioni uscito nel 2017 la seconda una poesia letta a venafro nella notte della poesia nel luglio 2018 e allora leggiamo la prima non ho più idee da molto tempo non ho più idee sono capace solo di guardare una volta avevo idee adesso le cose sono cambiate a tal punto che non posso più interpretarle con le idee di una volta posso solo guardare e pensare forse il problema è da un'altra parte ma non so da quale parte ma sono convinto che il problema è da un'altra parte perché per quel che mi riguarda i messicani potrebbero benissimo invadere gli stati uniti non amo gli stati uniti sono l'oppressione la guerra ma so anche che la civiltà è fiorita sempre all'ombra della violenza venezia non sarebbe così bella se i veneziani non fossero stati dei figli di puttana inoltre una mia amica uruguayana che una volta ha fatto l'errore di andare in colombia attraverso mi ha detto che lì all'aeroporto sono schifosi ma che i peggiori sono i latinos che sono diventati i enchi e allora penso che il problema è da un'altra parte ma non so dove o meglio so dov'è è chiaro ma ho paura di dirlo questo è il primo testo il secondo ricordiamo la seconda una poesia letta a venafro nella notte della poesia nel luglio 2018 poesia letta in piazza anzi poesia letta in una piazza poiché mi avete invitato a leggere poesie devo dirvi che mi vergogno un po perché chi scrive poesie non dà risposte ma le risposte sono difficili immense presupporrebbero compiti immensi che vanno oltre le nostre possibilità sì è vero noi stiamo invadendo l'africa per saccheggiarla gli africani che vengono qui sono utilizzati come schiavi e noi cosa possiamo fare la poesia serve a questo a dirsi e noi che siamo in questa piazza cosa possiamo fare ecco qui questa lettura dedicata a due testi di carlo che mi ha girato antonio lillo di pietre vive un grazie a lui è sempre un ricordo caro nel grande carlo bordini buona giornata